ciao ragazzi bentornati o benvenuti sul canale di giomattino ecco dom il buon dom ragazzi oggi col bruco blu che magari il nostro video vi farò vedere meglio insomma grafica e tutti gli apriati che abbiamo apportato guardate chi c'è guardate chi c'è oggi sul canale di giomatto il ducatista x che sono con il mio amico oggi e con un suo amico un suo follower che è tanto che voleva girare con noi bisogna che andiamo a mangiare da lui una volta esatto ragazzi andare tutti a mangiare ristorante bambola 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 comunque oggi 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 dobbiamo bullizzare ducatista che si è presentato così con la moto di gigi il bullo con la moto di gigi il bullo oggi ma come si fa ma come si fa ha detto che chi darà in prestito street fighter per non essere bullizzato comunque ragazzi la presentazione sarà fatta quindi andiamo in strada eccoci in strada col bruco blu la mia bella scheggia come dico sempre inizialmente ragazzi ricordatevi di scaldar bene le commette che è la cosa più importante oggi la prima futa per scheggia diciamo in modo la prima futa e vediamo un po cosa ne verrà fuori oggi devo bullizzare il mio carissimo amico ducatista x perché si è presentato con uno stramblerino davanti c'è il bondone e poi il lumaco il tartaracone x ragazzi speriamo che abbiano tolto qualche semaforo perché da quando è successo quello che è successo il senso di frane alluvioni purtroppo tutti quanti sappiamo quello che è successo ci sono stati un po di casini per cui per rendere percorribile la strada hanno messo dei semafori al senso alternato giustamente vabbè vedremo l'importante ragazzi come dico sempre girare con gli amici in moto e star bene perché bisogna star bene troppi guai ci stanno quindi bisogna star bene quanto più possibile ragazzi ma secondo voi ma c'è il ducatista poco lo scramblerino io non lo posso guardare veramente non lo posso guardare ma ah ah peccato per questi velox, per questi semafori ragazzi ma, cioè ma vi sembra normale, non passate la presa sul personale, ma anche tu, ma anche tu e Strada sporca! Che due coglioni! Bisogna stare attentissimi! Semafori di merda! Sti cosi di merda! Ragazzi ce la siamo scanzata! Ah che palle! E' Gigi il Bullo lì avanti! Il nostro amico ducatista Tatarugone Igza! Si è acceso il Tatarugone! Finalmente! Sotto passato dal suo collega ducatista e si è acceso! Al manico! Al manico il ducatista! Sotto passato dal suo collega! E siamo arrivati allo chalet! Eh ragazzi questo ultimo pezzo è bellissimo! Peccato che si è svegliato poco! Deve svegliarsi ancora di più! Però meglio di niente! Ragazzi vi ricordo! Iscrizione al canale! Sennò non va bene! Giomattino ragazzi! Vi saluta qui! Anzi! Aspettate un momento! Giomattino è la scheggetta! Vi salutano qua! Vi ringrazio! Iscrizione! Salutoni! Ciao a tutti! Un abbraccio e un bacio!